Ciao motociclista, sono Sam di Fuoristrada e oggi ti parlo di protezioni, perché è importante scegliere la protezione giusta. Questa è una protezione da gomito, come si può vedere è una protezione già precurvata, quindi pensata per andare ad accompagnare la forma del braccio a livello appunto del gomito, anche abbastanza morbida. Questa è tra le protezioni più morbide che si possono trovare all'interno della giacca o del giubbino da moto. È livello 1, quindi non è troppo spessa, però è comunque molto protettiva, quindi è una protezione molto valida, ma questa è molto più valida. D3O è un materiale polimerico creato dall'omonima azienda D3O che gode di una morbidità senza pari, come l'altra protezione, ma questa è già a livello 2. Inoltre è traforata per far passare l'aria al meglio, di modo da tenerti il più fresco possibile. La sua composizione va a adattarsi alla parte del corpo su cui viene applicata grazie al calore che viene assorbito dal corpo stesso e la sua protezione è molto più valida rispetto alle classiche livello 1 e livello 2. Questo perché il polimero di cui è costruita va ad assorbire con un'efficienza molto maggiore gli eventuali impatti. D3O lavora per l'abbigliamento moto e l'abbigliamento auto, tra cui anche la Formula 1 e la MotoGP. Lavora nel campo dell'elettronica producendo delle cover per proteggere i propri dispositivi per creare l'abbigliamento protettivo da lavoro e soprattutto lavora anche per le forze armate. Quindi si tratta di un materiale estremamente affidabile perché questo viene utilizzato negli elmetti da combattimento. Vediamo alcuni dei prodotti di D3O che si possono utilizzare nel campo dell'abbigliamento moto. Questo come dicevamo è una protezione gomito e ginocchio livello 2. È possibile scegliere anche la livello 1 con la stessa forma ma con uno spessore minore. Questo per chi vuole essere ancora più comodo quando guida la propria moto. Ovviamente viene protetta anche la spalla. Questa è un'altra protezione livello 2. Esiste la sua sorella minore livello 1 con uno spessore minore. Esiste poi la linea Ghost estremamente sottile sia livello 1 che livello 2 molto più morbida. Come si può vedere questa è costruita a nido d'ape di modo da distribuire ancora meglio la forza dell'impatto e può essere inserita anche nei pantaloni. Per esempio Riccia uno dei brand con cui collaboriamo utilizza queste protezioni nei pantaloni e soprattutto nei jeans premium stile moda così da non far percepire la protezione stessa. Queste protezioni possono essere utilizzate sia sul ginocchio che sui fianchi. Estremamente importanti sono i paraschiena. Questo è il D3O livello 1. Livello 1 perché va a prediligere la protezione della spina dorsale. Anche questo estremamente morbido di modo da adattarsi al meglio alle varie forme della schiena facendo comunque mantenere la traspirazione a livelli ottimali. Questo invece è sempre un paraschiena però livello 2. Come possiamo vedere va a proteggere anche la parte delle scapole e va a taglia. Ovviamente D3O non produce solo questi tipi di materiali. Va a produrre per molte aziende. Questi sono i materiali che abbiamo disponibili in casa per sostituire le vostre protezioni classiche all'interno di pantaloni e giacche. Esistono però prodotti che già le contengono. Per esempio Riccia sulla maggior parte dei propri prodotti medio e top di gamma già utilizza protezioni D3O livello 1 e livello 2 così come nell'ambito off-road Fox, Scott e TCX per quanto riguarda gli stivali. Se sei dunque curioso di venire a toccare con mano questi prodotti ti aspettiamo da fuori strada in via salvella 9 a Rovato Brescia. Se hai qualche curiosità in merito a questi prodotti utilizza pure la sezione qui in basso dei commenti. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao motociclista! Il meglio al miglior prezzo.